Ecco come sarà l'alta velocità Torino-Lione, una volta che i lavori in Val di Susa saranno finiti. Il Ministero delle Infrastrutture ha presentato ufficialmente il progetto per il quale ha stanziato altri 3 miliardi di euro. Di tempi certi però non ce ne sono, il cantiere, di cui si parla oramai da 23 anni, potrebbe durare ancora un decennio o più. I fondi, infatti, saranno disponibili fino al 2029, ovvero per altri 16 anni, ma una buona fetta della spesa, pari a 840 milioni di euro, sarà impiegata nel prossimo triennio. La tratta italiana del tunnel è lunga 18 chilometri e, secondo il Ministero, una volta chiusi i lavori, lo spazio effettivamente occupato dalle nuove infrastrutture prenderà circa 8 ettari. Il progetto della stazione, da cui partirà all'alta velocità verso la Francia, è dell'architetto giapponese Kengo Kuma, che ha inserito nel disegno finale anche un caffè panoramico che affacerà sulla valle, la stessa che ha visto in questi anni le proteste del movimento notabile e che già promette battaglia al nuovo cantiere della Torino-Lione.